È la notte tra il 12 e il 13 agosto, ormai da tempo, quella migliore per osservare il fenomeno delle stelle cadenti o per dirla nella maniera più scientificamente corretta, le Perseidi. Lontane da fonti di luce e dalla mezzanotta in poi quest'anno, perché ci spiega Lorenzo Sestini dell'Associazione Arezzo Astrofili, la Luna da quel momento in poi darà meno fastidio. Ci dà anche alcune indicazioni su come poter osservare meglio questo fenomeno. Il modo migliore per osservare le stelle cadenti ovviamente è come facevano gli antichi, quindi con gli occhi. I telescopi servono a ben poco perché il campo si ristringe, si ingrandisce, quindi le stelle cadenti non si riescono a vedere. L'aiuto di un buon binocolo, magari a grande campo e a pochi ingrandimenti, può aiutare a vedere anche le stelle che a occhio nudo non si riescono a vedere. In realtà noi si parla sempre di stelle cadenti, ma vi vogliamo sfatare questo mito. In realtà con tutto l'inquinamento che abbiamo gettato nello spazio, molte volte è capitato di vedere una stella cadente, ma in realtà non è un piccolo granello di sabbia che entra o di polvero di qualsiasi altro oggetto che viene dallo spazio, ma in realtà potrebbe essere anche una chiave inglese di un astronauta che è rimasta nello spazio un pezzo di satellite artificiale. Molto meno romantico. Assolutamente molto meno romantico, quindi attenzione quando esprimete il desiderio perché in realtà potrete esprimerlo con una chiave inglese che brucia nell'atmosfera. Tornando invece al romanticismo, notte del 12 e 13, appunto luogo buio, quindi meno inquinamento di luce possibile, insomma un monte, poti piuttosto che le montagne intorno ad Areca. Sì, noi abbiamo la fortuna di avere comunque un buon cielo discreto, quindi se vi avvicinate nella zona est di Arezzo l'inquinamento luminoso comincia a calare un po' a scemare, soprattutto anche in Casentino, quindi vi consigliamo Camaldoli, Laverna, il Monte Falco, Poti, Lignano, insomma, più ci allontaniamo dalla città e più riusciremo a vedere le stelle calenti, però ricordatevi solo dopo mezzanotte perché la luna comunque è un bel faro che illumina l'atmosfera. Questa associazione Arezzo Astrofili come si sta muovendo, come viene apprezzata secondo voi dalla cittadinanza e come si può fare per avvicinarsi a voi? Allora, Arezzo Astrofili funziona tantissimo, anzi ringraziamo e prendiamo l'occasione per ringraziare la cittadinanza, siamo ben seguiti, abbiamo delle chat aperte dove comunque quotidianamente mandiamo informazioni e tante altre cose, quindi risponde molto bene, ormai comunque sono quasi 20 anni che facciamo divulgazione scientifica, sia meteo che astronomica, quindi la risposta è notevole. Nel 2012 abbiamo vinto anche un premio nazionale come una delle migliori associazioni d'Italia, quindi questo ci ha reso molto orgogliosi e noi continuiamo con il nostro cammino. Abbiamo bisogno di voi, se volete entrare e appassionarvi abbiamo anche bisogno di voi, quindi lo ripetiamo ancora.